Buongiorno, siamo ancora qui insieme al professor Martino e al professor Montani e insieme anche ai due responsabili tecnici del mondo ZEISS e del mondo OIA, Fabio Briganti e Silvano Larcher. Il tema è bello croccante perché non si parla solo di UV ma si parla anche di tutto quello che succede intorno al mondo del digital. Noi abbiamo chiamato questo simposio di digital surround perché di fatto parlare della luce blu non è così semplice e si finisce per essere banali, quindi tutto quello che gira intorno a questo sistema va fondamentalmente chiarito. Cercheremo di farlo con due esponenti di rilievo che si occupano dell'aspetto della fisica della luce blu e dell'aspetto legato all'optometria che gestisce la luce blu e inoltre anche degli spunti da parte del mondo dell'industria. Allora, inizio personalmente io, esco un po' io da quello che è il mio ruolo di moderatore per lavorare un attimo con voi, introdurli su questo tema. Io l'ho chiamato la LED Degeneration, ovvero sia tutto quello che ha creato dipendenza o meno il mondo che stiamo vivendo oggi del mondo digitale. Possiamo girare? Allora, la medicina la chiama IAD, che è la cosiddetta Internet Addition Disorder, perché parto da un altro punto di vista, per farvi capire come certe cose che noi per certi aspetti banalizziamo oggi nel mondo dell'ottica, invece stanno diventando un problema serio, cioè nel mondo per esempio della psicologia, quella che era la cosiddetta malattia dall'abuso di Internet sta incominciando ad essere un elemento conclamato, sta incominciando a creare il cosiddetto disordine. Ma perché l'hanno definita Addition? Allora, vediamo un attimo, stiamo correndo troppo. Allora, partiamo dal concetto di l'omofobia. L'omofobia è la paura di non avere un accesso mobile e rimanere scommesso. Cioè di fatto provate a dimenticare il telefonino a casa per una giornata intera e non poterlo recuperare e vedrete che anche voi incomincerete ad assumere questa ansia, quella che i medici chiamano omofobia. Non è una vera e propria malattia, ma comincia ad essere uno stato, ed è uno stato che comunque agita, che crea delle, se vogliamo, delle complicazioni nel vostro rapporto con voi stessi, ma soprattutto con quello degli altri. Grazie. Quindi Internet ha gli stessi effetti di una droga. È incredibile ma vero. Cioè nel senso che rilascia la cosiddetta dopamina, cioè che è una cosa che è difficile anche a dire, che però è un fenomeno fisico che va a incidere su quello che è il nostro sistema nervoso. E molto spesso, quando noi siamo alterati, quando abbiamo comunque qualche problema, se vogliamo, non siamo gli stessi, ma probabilmente è dovuto molto spesso anche all'abuso che noi facciamo del computer o piuttosto del telefonino. Andiamo a girare, grazie. Cosa ci dicono quelli che ci vendono questi oggetti meravigliosi? Cook, quando è venuto a Firenze l'anno scorso, ha detto una cosa molto semplice. Gli americani sono molto bravi a condensare in poche parole la loro grande filosofia. La tecnologia di per sé, dice Cook, non vuole nulla, non è buona né cattiva, è neutra. Fa quello che decide chi la usa. Semplice. Cioè, se vuoi usare il telefonino 10 ore, 1 ora, se vuoi usare il computer dalle 10 di sera in una stanza buia, it's up to you. Cioè, sono affari tuoi. Questo è il concetto molto chiaro. Quindi, fondamentalmente, a parte il fatto di aver utilizzato degli schermi che aiutano, se vogliamo, a ridurre certe, diciamo, radiazioni della luce blu, a parte questo, la tecnologia continuerà ad andare avanti. Quindi, la tecnologia non ci aiuterà a risolvere praticamente nulla. Andiamo avanti, grazie. Però, io faccio un ragionamento, no? Perché a me piace sempre cercare di capire se dal passato si può avere una morale per il futuro. Siccome gli americani sono abbastanza ottimisti, dicono che lo smartphone è utilizzato di media 4 ore al giorno, media 4 ore, diciamo, intese una dietro l'altra, significa che lo smartphone in un anno, praticamente, viene utilizzato due mesi consecutivi. Allora, oggi è il 25, 25 febbraio. Chiudetevi in una stanza qua dietro, apriamo la stanza di nuovo il 27 aprile e per due mesi voi avete sempre guardato il telefonino. Io penso che sia una carcerazione, diciamo, ai limiti dei diritti umani. Sì, no? Spero che non ci abbia pensato nessuno. Però, alla guida, io spesso mi faccio delle domande, no? Anche quando sono con i vostri colleghi optometristi. Cioè, quando un guidatore guida la sua macchina per 50.000 km all'anno, no? Io normalmente ho notato, facendo clic sulla mia macchina, che la mia macchina mi dice che sono andato a 40 all'ora, mediamente, no? Non sono uno che ha il piede, diciamo, pesante, in questo senso. Però, significa che quel guidatore ha guidato continuativamente per tre mesi. Cioè, nel senso che, alla fine, non è che sia solo lo smartphone che ci crea... Cioè, è tutto quello su cui noi... E sappiamo che quando guidiamo, per quanto sicuramente la legge non ci aiuta, non possiamo guardare il telefonino o usarlo. Quindi, in questa logica, se guardiamo l'accumulo che c'è tra lo smartphone e la guida, possiamo dire che siamo veramente in una situazione che, se non ce la risolviamo noi, non ce la risolve nessuno. Grazie. Quindi, io consiglio, soprattutto ai giovani, ma anche agli amici, diciamo, che hanno già parecchi anni di optometri alle spalle, questi tre C, che stanno per cultura, consulenza e confidenza. Andiamo. Allora, la cultura cosa vuol dire? Prima, Giancarlo ci ha detto, e anche il nostro oculista, che solo il 7% delle persone che girano, diciamo, le nostre strade, hanno una cultura su quelli che sono i problemi che il sole ci può creare. Provo a farmi una domanda e dico, ma, se noi cominciassimo a spiegare alle gente come devono funzionare questi strumenti? Cioè, ad esempio, alla televisione, cerchiamo di spiegare che deve essere, della distanza, tre volte la grandezza dello schermo, perché altrimenti troveremo persone che mettono, diciamo, in una stanza, tre per tre, uno schermo a 55 pollici, magari neanche OLED, no? Giustamente, ma un bel LED, un bel plasma, e già quelle, fondamentalmente, sono già, insomma, persone spacciate. Oppure, il computer, usiamo il famoso discorso del tuo intuitenti, che mi hanno insegnato, in questo caso, gli amici delle aziende oftalmiche, o per 20 minuti lavora, per 20 secondi guarda all'infinito. Non ti aiuterà, ma sicuramente ti rilasserà. E poi, nello smartphone, l'opzione shifter, per esempio. Nice shifter, per quanto sia un'operazione utile. Quindi, il dovere dell'ortometrista, del professionista, è quello di dare queste indicazioni. Non c'è niente da fare. Non è che dobbiamo andare a cercare chissà che cosa. Sono regole di buona, diciamo, educazione. Come una volta avevamo educazione civica nelle nostre scuole, questa potrà essere l'educazione visiva. In generale, comunque, andiamo a lavorare su questo. Allora, se facciamo consulenza, invece, se siamo gli optometristi che fanno l'anamnesi visiva, all'interno del loro studio, provate a fare un'anamnesi comportamentale visiva del vostro paziente, quello che avete di fronte. Voi, qualcuno di voi, sa che esiste una macchinetta che si chiama Holter. Si mette nel cuore, e l'Holter misura come il cuore risponde nell'arco della giornata a quello che voi fate. Andate in palestra, andate a fare la spesa, andate a lavorare, e l'Holter aiuta a capire come funziona il cuore. Ecco, se voi fate l'Holter di una persona normale, che fa questo tipo di vita, questa persona qui, in 24 ore, usa il PC per 6 ore, il telefono per 4 ore, e la TV per 1 ora. Totale 11 ore. Allora, la LED generation è una generazione, a mio avviso, che ha grandi capacità, sviluppi, futuro, ma è anche una generazione spiegata, perché fondamentalmente è attaccata, in tutti i momenti, da qualsiasi cosa. E se ragiono nell'accumulo, come diceva prima il professor Montani, evidentemente le gocce stanno cominciando a essere tante, troppe in questo senso. Quindi, bisogna lavorare sulla consulenza. Per ultimo, grazie, sulla confidenza. Questo signore, si chiama Richard Haller, ha vinto il premio Nobel dell'economia, però l'ha vinto con il concetto dell'economia comportamentale. Cosa significa? Che è stato tra i primi a introdurre la psicologia all'interno dell'economia. Se vogliamo, qualsiasi tipo di acquisto che facciamo ha molto a che fare con la psicologia, e la vendita ha molto anche lei a che fare con la psicologia. Per cui, questo signore non è che ha inventato l'acqua calda, però ci ha detto una cosa molto interessante che potete trovare, grazie, puoi girare, in un libro che si chiama The Candle Touch. Ecco, non so se avete presente la mamma elefantessa quando tira un calcetto, diciamo, o tira una grugnata, diciamo, al piccolo elefantino, per spiegargli qual è la strada. Quello è il Candle Touch, è l'abilità del professionista, o anche del politico, di fare in modo che il cittadino, il consumatore, faccia qualcosa che non ha in mente di fare, ma gli fa bene farlo. C'è un esempio molto pratico, anche se poco, diciamo, come dire, simpatico, è quello del canone Rai. C'era una grande evasione, è stato messo nella bolletta della luce, per carità, non è piaciuto sicuramente, però è stato un Candle Touch che ha fondamentalmente risolto molte di queste cose. Allora, il professionista deve lavorare sul Candle Touch per quanto riguarda la dinamica anche dell'UV e anche della luce blu. Deve dare un colpetto al proprio cliente finale per fargli fare qualcosa di più che in proiezione, in futuro, lo possa aiutare. Investire nella Blue Chip, quindi per l'ottico, cosa significa? Grazie. E la Blue Chip intendo tutto quello che ha a che fare con questi due signori. il ragazzino che ricomincerà a leggere il giornale e il nonno che comincerà a guardare il PC, perché oggi il rapporto tra nipoti e nonni è un rapporto più che fisico, è un rapporto via Skype. Le ricerche dicono che i nonni sanno usare Skype molto meglio dei figli perché parlano con i nipoti che magari fanno l'Erasmus a distanza. Questi sono i temi importanti. Si deve lavorare su geometrie, materiali, su trattamenti, poi su concept di lenti specifiche come le aziende oggi vi stanno confezionando e su standard protettivi più elevati, il cosiddetto kind of touch, cioè date un colpo diciamo all'elefantino che avete di fronte per fargli fare quel passaggio in più che in quel momento potrebbe sembrare non essere utile ma è fondamentale. Come quando un venditore vi dice prendete diciamo un telefonino con una memoria più importante perché voi siete dei filmmaker che avete bisogno se no vi si impalla il telefono. Certo spendete qualcosa di più ma sapete che poi dopo grazie quel qualcosa di più funziona meglio. Ecco io adesso lascio spazio diciamo da relatore agli altri due relatori che vi aiuteranno in maniera molto più fisica e optometrica a dire qualcosa di più sulla LED generation. Grazie Non potevo farmi l'applauso da solo Allora dovete sapere che il professor Martino mi ha aiutato a comprare il televisore nuovo perché io ho visto una sua bellissima presentazione a Monopoli sulle schermi che ha ritenuto essere diciamo importante e allora sono andato e lui ho detto scusi io devo cambiare il telefono il televisore e lui mi ha consigliato l'OLED e mi ha salvato la vita cioè quantomeno mi ha fatto spendere un pochino di soldi però Allora ri buongiorno a tutti sono sempre io e sono sempre Maurizio Martino mi sentite sì innanzitutto vi siete chiesti da dove viene tutta questa luce blu perché ne abbiamo parlato abbastanza se ne parla abbastanza però quali sono le sorgenti della luce blu che diciamo permeano la nostra esistenza in più Giancarlo Montani qualche mese fa mi ha chiesto perché non fai una relazione un seminario sui display e lì parlando anche un pochino con altra gente mi sono reso conto che c'è una grossa confusione in questo campo vediamo un pochino di chiarirci le idee di rispondere alla prima e alla seconda domanda innanzitutto cos'è un display la risposta non è così immediata come potrebbe essere se ci guardiamo intorno di display ne abbiamo tanti dal vostro smartphone dai vari dispositivi che avete più vicino dai vari dispositivi che avete per non parlare dei televisori dei panel che ci sono delle insegne luminose insomma siamo abbastanza bombardati da display ok potremmo definirli come un trasduttore per convertire le informazioni digitali o analogiche in modo da poter essere elaborata il cervello umano un effetto elettorotico insomma vi lascio leggere tutte quelle diciamo quelle definizioni la cosa importante è che un display vi deve dare delle informazioni e ci sono parecchie tecnologie dietro un display che ho riportato qui in questa scheda in cui e in inglese perché l'ho preso un sito in inglese in cui ci sono tutti le varie tipologie dai vecchi soprattutto per quelli della mia generazione i tubi a raggi catodici via via sono arrivati fino agli led e adesso con i nuovi sistemi le tre tipologie che noi considereremo e che diciamo sono alla base di tutti i display che oggi abbiamo sono di tipo riflettivo di tipo trasmissivo e di tipo emissivo che cosa significa significa che in un caso noi andiamo a vedere una variazione di riflessione tra due strutture in un altro caso invece abbiamo una luce che viene trasmessa attraverso uno schermo e sono i led e le cd e poi ci sono quelli di ultimissima generazione gli oled che emettono luce quindi diremo che c'è una differenza in riflessione una trasmissione e un'emissione luminosa i primi i primi display che consideriamo sono quelli di tipo riflettivo e sono i famosi kindle i cobo sono gli e-reader link paper chiamateli come volete che sono entrati nella nostra nella nostra vita quotidiana che però hanno delle diciamo dei principi di funzionamento diversi riflettono una diciamo uno schermo che viene segmentato dalla presenza di cristalli liquidi nei primi due nei primi due casi quello che è importante è la presenza di cristalli liquidi ovvero di un sistema che può avere a seconda se viene citato con una differenza di potenziale un comportamento di un tipo rispetto a un altro essere scuro o essere trasparente quindi questi sono dei dispositivi diciamo riflessione sono dei dispositivi cosiddetti bistabili nel senso che io per fargli cambiare il loro stato gli devo fornire un'attenzione motivo per cui i vostri e-reader una carica mantiene per settimane mesi perché non hanno bisogno di una fornitura continua di energia andiamo invece alla regina o se volete al principe dei display i famosi led quelli che volgarmente vengono chiamati led ma in effetti il diciamo lo strato che vi dà l'informazione e sono sempre dei cristalli liquidi quello che succede è che vengono che vengono in qualche modo illuminati retroilluminati vedete qui le strutture che ci sono di un tipico display lcd la maggior parte dei vostri smartphone la maggior parte dei vostri schermi dei computer scusate il principio di funzionamento vado molto rapidamente deriva dalla polarizzazione della della luce attraverso questi display molto spesso non so se vi è mai capitato di fare benzina con un distributore a cristalli liquidi avendo gli occhiali da sole polarizzati può succedere che non vedete i numeri via via che cambiano vi dovete togliere gli occhiali perché tutti i dispositivi di questo tipo emettono luce polarizzata se voi avete degli occhiali polarizzati può accadere che se l'asse di trasmissione è a 90 gradi voi non vedete nulla o dovete curvare la testa oppure dovete togliervi gli occhiali quindi il principio di funzionamento deriva dalla polarizzazione indotta di questi cristalli liquidi però questi non emettono luce questi hanno bisogno di essere retroilluminati ovvero hanno bisogno di inserire finora vi ho parlato di display a un singolo colore ovviamente dovete immaginare che esistono tre diversi colori la cui intensità reciproca vi dà il colore che vi interessa sapete tutti che ogni singolo colore può essere composto dalla somma dalla combinazione di tre colori RGB che vi dà le tonalità del colore che voi volete prima però volevo farvi vedere qui entriamo nel problema della luce blu perché i led che vengono utilizzati per retroilluminare tutti i dispositivi che noi utilizziamo sono dei led bianchi però i led emettono grosso modo in una banda di energia o di lunghezza d'onda abbastanza ben definita quindi emettono grosso modo per l'occhio un singolo colore che cos'è che li rende blu o li rende bianchi il fatto che dei led blu vengono utilizzati colpiscono dei fosfori che riemettono della luce rosso-arancio e questa composizione della luce l'occhio l'avete come luce bianca e sono la retroilluminazione che avete su tutti gli schermi che avete in tasca o che guardate ogni volta che avete un display di un computer andiamo a parlare anche di un altro problema i pixel voi sapete che il pixel è l'unità di visione di un display e anche qui ci sono vari modi o se volete varie possibilità vi ho fatto l'esempio del distributore di benzina lì ci sono dei segmenti che cambiano quindi non avete una grossa richiesta nella densità di pixel da inserire mentre se andate su un ipad o su un dispositivo di questo genere avete bisogno di una grossa densità di pixel per poter avere una risoluzione un dettaglio molto elevato qui vi faccio vedere degli esempi il display retina degli iphone a 326 pixel per pollice quindi vedete che a una distanza di 30 cm ci sono 100 pixel per metro mentre l'ipad ne ha 264 se invece andiamo in un grosso tabellone pubblicitario la dimensione di un pixel è circa 2 mm e mezzo sono molto grandi sono un 10x10 a una distanza di 10 m questo è quello che vi dicevo l'emissione dei led ha i diversi colori e l'emissione di un led bianco il problema questo è un tipico schema di un led bianco quindi voi vi portate dietro proprio per il fatto di aver utilizzato dei led che emettono nel blu che di solito sono dei led composti da materiale legato dell'azoto che incidendo sui fosfori quindi provocano l'emissione di una radiazione giallo-arancio insieme a quella blu la composizione delle tre vi dà una luce bianca ma non tutta la luce blu l'avete eliminata parte di quella luce blu che serviva per foto eccitare il fosforo quella ve la mantenete purtroppo non la eliminate tutti quindi quando voi andate a fare uno spettro di emissione di un qualunque display vedete che il picco del blu è molto evidente molto più di una tipica emissione solare abbiamo visto anche nella lezione scorsa dove l'occhio umano si è abituato in centinaia di migliaia di anni quindi è questo il grosso problema che ci portiamo dietro questa emissione del blu che ci deriva dalla retroilluminazione di un led bianco che in qualche modo non riusciamo ad eliminare da qui tutti i problemi che ci sono con la luce blu attenzione vi lancio un messaggio siccome su questo stanno o sono o circolano parecchie come dire notizie false anzi il termine esatto sono bufale per esempio ci sono circolate notizie che la luce blu facesse male a livello retinico non è vero ci sono sì dei problemi e ovviamente è un discorso scientificamente più serio è questo qui una variazione del ritmo circadiano questo lo potrà dire meglio di me Giancarlo o il medico o chiunque altro però attenzione a diciamo a cosa viene contrabbandato cosa viene discusso all'interno di diciamo di internet presente e futuro così concludo il presente è dato dai led LCD ma contemporaneamente si è affacciato sul mercato ed è commercialmente maturo il sistema degli OLED gli OLED sono dei materiali polimerici che sottoposti a una differenza di potenziale emettono luce ma l'emissione della lunghezza d'onda è controllata da noi per cui non ci portiamo dietro componenti blu che sono indesiderate e in questo modo anche il contrasto blu scusate scuro nero colore è molto elevato ovviamente come ha imparato Nicola il costo adesso è ancora elevato per tanti motivi tipo tecnologico e secondo me anche commerciale secondo me devono ancora smaltire tutti gli LCD che ci sono e dopo potranno diciamo vendere tranquillamente gli OLED che vi ricordo essendo polimerici possono essere anche utilizzati su schermi curvi anche su quello per 4-5 mila euro adesso un po' sono scesi ma potete trovare di 55 pollici curvi nel futuro quello che si avrà si avranno odio nel futuro già nel presente sistemi collegati ad occhiali e se era iniziato con i Google Glass ho sentito oppure vedo un pochino sai che sta decrescendo questo interesse forse ci sono dei problemi dietro che non sono stati risolti altre possibilità sono l'utilizzo di nanotubi a base di carbonio ma qui andiamo nel futuribile ma l'idea o il concetto che c'è dietro è sempre quello cercare di aumentare la risoluzione dei vari pixel perché ovviamente a seconda di quello che voi volete uno smartphone un display di un computer ovviamente volete un'altissima risoluzione l'ultima cosa nel frattempo che c'era il primo dibattito mi sono andato a vedere quali sono gli smartphone che utilizzano gli OLED sono tutti smartphone di fascia alta iPhone X Samsung quello di ultima generazione la maggior parte di quello dei smartphone che abbiamo noi sono tutti di tipo LED LCD questo per ribadire il concetto di che cosa utilizziamo tutte le ore che diceva Nicola che cosa utilizziamo e che cosa dobbiamo aspettarci vi ringrazio grazie grazie professor Martino io devo dire che quando dietro al suo consiglio ho acquistato un OLED la cosa che mi ha sorpreso è che il venditore era molto preparato sull'aspetto tecnico e poco sull'aspetto visivo cioè non mi ha detto che fondamentalmente l'OLED mi avrebbe diciamo fatto vedere in maniera diciamo oltre che efficace anche più riposante io glielo ho fatto notare e il venditore ha detto interessante sarà una prossima diciamo disquisizione che farò con un cliente come lei quindi la logica che a volte anche i venditori sono incapaci a spiegare che appunto l'ultimo iPhone ha un retina con l'impianto OLED ed è per quello che ha anche un costo significativo cioè in sostanza la sensazione che vogliamo dare in questa tavola rotonda è che dobbiamo spostare il tema dalla soluzione al diciamo al problema cioè dal buco al trapano cioè fondamentalmente non dobbiamo rincorrere quella che è la soluzione commerciale se no smenuiamo il tema la soluzione commerciale c'è ma il problema è il digital surround cioè tutto quello che ci guarda intorno e qui lascio spazio a professor Montani che ci aiuterà a capire come a livello optometrico certe cose vanno tarate tocca a te non funzionava il microfono ero senza effetto speciale diciamo che quello che vorrei sottolineare nella breve presentazione è un concetto legato ad un'opportunità prima abbiamo parlato di protezione UV ma ancora tanto c'è da fare per quanto riguarda una problematica che è associata non tanto alla radiazione fine a se stessa ma all'utilizzo di sistemi digitali quindi volutamente ho sottolineato opportunità ancora parzialmente considerata perché perché alle volte noi si va a cercare dei o meglio si va a cercare i numeri dove c'è poco da trovare mentre si lascia praticamente in un limbo qualcosa che invece ha bisogno di una reale diciamo così gestione con i sistemi che ancora una volta le aziende mettono a disposizione ora non vi dico niente di nuovo parlando di quelli che sono i sintomi astenopici la la lead generation ma non è solo una questione di lead generation è la digital generation cioè la generazione dove noi abbiamo a che fare con persone che utilizzano per un sacco di ore al giorno per tante ore più di un sistema digitale e chiaramente questo impone che cosa al nostro sistema visivo delle regole del gioco a cui non è abituato e ovviamente non essendo abituato a giocare con quelle regole ce lo fa sapere attraverso che cosa attraverso le classiche sintomatologie sintomatologie che possono voler dir tutto non dir nulla perché perché sono le stesse sintomatologie che magari noi troviamo ad un soggetto che ha una sintomatologia di tipo astenopico e che con i digital device non ha niente a che fare quindi la differenza è legata a che cosa al modo con cui noi andiamo a fare le valutazioni e quindi nel modo con cui andremo a capire dove andare a trovare il problema sintomi li conoscete non li stiamo a commentare quello che è importante notare è quando si verificano logicamente dopo diverse ore di utilizzo dei digital devices quindi un problema chiamiamolo serale non solo quali sono i numeri ci sono dei numeri interessanti le percentuali fanno sempre scena però di tutte quelle percentuali a me interessa sottolineare un 73% che è il dato relativo ai giovani sotto i 30 anni che presentano la maggior percentuale di sintomi quindi sostanzialmente questa condizione è una condizione da giovani vedete i presbiti in un certo senso presentano meno problematiche rispetto a quello che invece è il problema lamentato da una categoria più giovane e quindi ecco il primo messaggio lavorare molto sulle soluzioni dedicate per quella fascia di età ora il dato importante che era un dato che si sposa molto con quello che ha detto prima il professor Scalinci in merito alla conoscenza dei rischi c'è poca comunicazione si sa poco di quei problemi che sostanzialmente sono sotto gli occhi di tutti come prima si parlava di radiazione ultravioletta e si sa che la radiazione ultravioletta non fa proprio così bene beh si sa anche che utilizzando i sistemi digitali sostanzialmente tutto questo cioè ci si può aspettare di avere un problema io mi ricordo già dai tempi del tubo catodico quando dicevano bisogna stare lontani dal televisore perché eravamo in tempi se vogliamo oramai preistorici perché la tecnologia ha fatto un salto epocale e il dato importante è che pochi sanno ancora che esiste una soluzione dedicata e non solo se voi guardate un altro numero inquietante di quelli che potete vedere alle mie spalle c'è un 8% relativo a che cosa a persone che utilizzano un qualcosa di specifico per gestire quel problema quindi cosa vuol dire vuol dire che si utilizzano in un certo senso delle scarpe diciamo così normali per andare a fare una corsa questa è un po' la logica cioè pensiamo ancora una volta che se si vuole fare un certo tipo di servizio serve un sistema adeguato lo si sa bene quando si parla appunto di scarpe che è una cosa abbastanza semplice o per quanto riguarda l'abbigliamento però ancora poco è sdoganato in merito a quello che è l'aspetto dei diciamo così degli strumenti per garantire un miglior risultato una miglior prestazione visiva i numeri lo dicono qui ho messo a confronto i dati Anfao 2016-2017 praticamente è cambiato poco ci sono un po' i numeri sono ridotti ma le percentuali sono le stesse guardate i prodotti specifici quanto pesano parlo di prodotti specifici ovvero le lenti a profondità di fuoco profondità di campo le lenti occupazionali 2.4% quanti persone presbiti utilizzano sistemi digitali o computer questa è una percentuale che fa onore al sistema correttivo di cui stiamo parlando o no e quindi è un'opportunità che noi abbiamo sicuramente sì io vedo le percentuali soprattutto per le opportunità che quei numeri mi fanno capire e un altro dato interessante è questo se io estrapolo indicativamente non ci sono dei dati reali però considerando un po' quello che è il mercato e qui ci si può muovere ma non con percentuali importanti le lenti a supporto accomodativo ovvero le lenti per giovani quanto pesano? Veramente poco rispetto al monofocale quindi vuol dire che ancora una volta da parte nostra ci deve essere maggiore attenzione nell'offerta dei prodotti adeguati filtri per la luce UV se ne è parlato tanto quindi uno seguendo un po' quella che è stata l'impostazione anche delle aziende si aspettava delle percentuali importanti ma credo che anche questo non deve in un certo senso mantenerci tranquilli perché? perché avere solo un 12% di quello che è l'aspetto trattato non trattato ci fa capire che c'è ancora molto da fare ora quali sono le problematiche di cui noi ci dobbiamo occupare? beh ne sono diverse e soprattutto sono problematiche che vengono suddivise sono state suddivise nel 2003 quindi oramai nella storia di queste problematiche in un testo molto interessante di un certo James Sheedy lui aveva stabilito un po' quali sono le cause dei problemi digitali e uno è legato ai problemi ambientali oppure ai problemi oculari problemi ambientali sostanzialmente si intende che cosa illuminazione posizione dello schermo impostazioni dello schermo o il tipo di schermo quindi quello che in pratica ha descritto Maurizio Martino nella relazione precedente non solo quando noi parliamo di posizione ci sono delle regole da seguire anche in funzione del tipo di soluzione oftalmica che utilizziamo perché in virtù del tipo di lente è importante modificare la posizione del monitor proprio per evitare che poi un cattivo utilizzo del sistema correttivo rispetto alla posizione del monitor poi ancora una volta si associa a problemi diciamo così legati ai classici sintomi che i soggetti presentano non solo altre regole del 3 a 1 che comunque già in parte ha spiegato per i monitor Nicola li rimanderei e mi rifaccio soprattutto a quelli che sono i problemi di natura oculare problemi oculari che devono anche in questo caso essere suddivisi in refrattivi accomodazione visione binoculare quindi quelli interni oppure problemi legati alla superficie oculare fin lacrimale ammicamento eccetera ora il primo punto importante diciamo uno degli aspetti che dà maggiore effetto positivo è la correzione adeguata quindi la prescrizione che sembra una cosa banale è comunque un qualcosa che deve essere curato in maniera adeguata perché anche piccoli valori di ametropie soprattutto ipermetropiche anisometropie o astigmatismo possono poi alla fine creare uno stimolo alla sintomatologia di tipo astenopico altri problemi sono legati alla risposta accomodativa quindi dare una mano all'accomodazione anche nei soggetti giovani sostanzialmente serve proprio perché è stato dimostrato che utilizzando sistemi digitali la distanza non è quella di lettura classica addirittura c'è una variazione in funzione del compito che viene messo in atto per esempio leggere un messaggio porta ad una riduzione di 4-5 centimetri mentre quasi 10 centimetri la riduzione che noi abbiamo mentre cerchiamo qualcosa sui sistemi digitali variazione della distanza aumento della richiesta comodativa di convergenza risultato ancora una volta cerchiamo di capire perché e soprattutto di effettuare esami compatibili con quelle che sono le cause è inutile che noi diamo per scontato che la distanza a cui effettuare un esame è 40 centimetri se poi il soggetto utilizzerà una distanza diversa commettiamo un errore che cosa c'è c'è anche qui un problema legato a quello che possiamo chiamare una sorta di stress sull'accomodazione ovvero lo stimolo accomodativo o meglio la risposta accomodativa non è più particolarmente coerente con lo stimolo e ovviamente questa differenza nota come l'aga accomodativo entro certi limiti è fisiologico ma andando avanti soprattutto con la sintomatologia astenopica aumenta e chiaramente questa distanza può essere colmata dal supporto accomodativo per esempio cioè nella prescrizione di un'addizione in un soggetto che anagraficamente non ne ha bisogno sulla visione binoculare non ci sono grossi studi a supporto c'è ancora alcune cose perché purtroppo i tempi che sono stati utilizzati per monitorare questi soggetti erano talmente brevi e siccome brevi non ci permettono di avere nel lungo periodo quali possano essere le interferenze addirittura si pensa che e questo è il risultato di un articolo che è stato pubblicato da Rosenfield che è uno dei massimi esperti che si occupa di problemi legati alla visione ai sistemi digitali avere una leggera exoforia da vicino aiuta a ridurre quelli che possano essere gli stimoli per l'affaticamento quindi ricordiamoci che esistono delle soluzioni specifiche a supporto accomodativo e quindi ci permettono di utilizzare addizioni in un certo senso per soggetti che non sono ancora arrivati nell'età della presbiopia cause esterne non è questo l'ambito per parlare di problemi di secchezza oculare ma ricordiamoci innanzitutto che è stato trovato che nei bambini aumenta l'incidenza della secchezza oculare e quindi quanti bambini utilizzano smartphone ovviamente parlavo di bambini che utilizzano smartphone e quindi capite come nel futuro ci possiamo aspettare un'evoluzione di quelle che sono le condizioni che chiaramente accompagnano l'utilizzo dei sistemi digitali altro aspetto importante instabilità del fine lacrimale che accompagna i soggetti che usano sistemi digitali si accompagna ad affaticamento visivo perché una superficie non ben otticamente performante cosa determina? Microfluttuazione dell'accomodazione e ritorniamo al punto di partenza ecco perché è importante lavorare anche in questi casi un articolo molto interessante è questo di un ricercatore giapponese dove vedete si parla di instabilità del fine lacrimale si parla di danni superficiali ma il tutto ancora una volta si rifà quello che è il sintomo di affaticamento oculare ora per quanto ecco qua riguarda l'aspetto ancora una volta stabilità ricordiamoci che l'ammiccamento nei soggetti che utilizzano sistemi digitali diciamo così si riduce nel numero noi abbiamo dei valori di riferimento un rapporto molto interessante con il detto ocular protective index che è il rapporto fra la stabilità del fine lacrimale e l'intervallo fra gli ammiccamenti ma poiché noi abbiamo una riduzione del numero degli ammiccamenti che arriva quasi al 70% capite che questo dato deve essere rivisto e una proposta che è stata fatta è legata proprio al rivedere l'opi cioè il rapporto in virtù del potenziale allungamento del tempo fra un ammiccamento e l'altro che accompagna i soggetti che utilizzano videoterminali quindi ricordiamoci ancora che noi abbiamo un'altra opportunità nei sostituti lacrimali perché perché nel momento in cui noi parliamo di supporto di aiuto la lente oftalmica è un aiuto ma anche il sostituto lacrimale perché utilizzare l'adeguato sostituto lacrimale cosa fa? migliora la stabilità del film lacrimale migliora l'ottica dell'occhio e si è visto anche che i filtri per la luce blu hanno un effetto positivo per migliorare la qualità della visione sul filtro per quanto riguarda la luce blu è stato detto molto già Maurizio Martino ha detto una cosa importante e la cosa importante è proprio legata a come sono stati proposti i filtri blu sì o no beh diciamo sì nel momento in cui noi dobbiamo pensare a quei benefici che possono nascere nel filtrare la luce blu e soprattutto per quanto concerne la qualità della visione meno si può dire per quanto riguarda gli effetti della luce blu sulla evoluzione delle patologie retiniche perché? perché in pratica è stato evidenziato che gli smartphone i sistemi digitali sostanzialmente emettono quantità di luce blu non tali da creare un rischio per la salute pubblica quindi diciamo che in questo periodo il messaggio è stato molto luce blu proteggiamo per ritardare un qualcosa io penso che sia il momento di dire pensiamo a filtrare la luce blu per migliorare la qualità della visione perché migliorare la qualità della visione nei nostri soggetti equivale a ridurre anche tutti quegli input che possono portare poi a che cosa? ad una sintomatologia di tipo astenopico quindi rimettiamo un po' le cose a posto e soprattutto ricordiamoci ancora una volta dei prodotti specifici che possono gestire queste problematiche e con questo vi ringrazio grazie grazie Giancarlo mi fa venire in mente che quando si dice sei quello che mangi probabilmente sei come lo vedi con quale sistema diciamo protettivo riesci a vedere questo sistema gli ultimi 10 minuti li dedichiamo alle domande agli amici dell'industria ricordo Fabio Briganti di Zeiss e Silvano Larche di Oia Giancarlo citava questo 12% della penetrazione dei trattamenti blu diciamo nel totale del mondo delle lenti mi fa venire in mente la famosa battuta dei due venditori che vanno in Africa uno dice torna indietro perché nessuno porta le scarpe e invece io resto perché sicuramente ne venderò a tutti allora la domanda è Fabio e Silvano voi come la vedete cioè è tanto è poco perché personalmente non è lo trovo un buon inizio però voglio capire se pensiamo alle lenti occupazionali quindi questi prodotti sono sul mercato da almeno 15 anni e il 2017 ha chiuso con la vendita da Tianfau delle occupazionali che è del 2,4% il fatto di avere sui trattamenti specifici per la luce blu un 13% è sicuramente qualcosa di positivo quello che però credo sia importante da considerare è che non bisognerebbe usiamo il condizionale dare questo trattamento a tutti proporlo a tutti i consumatori in modo incontrollato quindi se ci sono delle specifiche esigenze di visione di dispositivi digitali all'interno un trattamento superficiale è sufficiente a riflettere quella parte di luce blu dannosa ma ovviamente un trattamento antiriflesso non può fare nulla contro la luce blu solare per tutte quelle persone che hanno un'attività prevalentemente in esterno quindi torniamo al discorso di prima dove la personalizzazione del prodotto finale è alla base della differenziazione del punto vendita stesso quindi l'anamnesi diventerà sempre più importante per stabilire quali sono i prodotti più specifici per le differenti esigenze visive Silvano la tua opinione prima di rispondere vorrei fare una considerazione allora anticipo metto le mani avanti che per me siete tutti giovanissimi praticamente dei bambini però se guardo l'età media della platea di questa presentazione rispetto a quella precedente si è leggermente alzata e questo è un po' lo specchio di quello che sta succedendo cioè i maggiori diciamo così fruttori dei dispositivi digitali quindi quelli che potenzialmente dovrebbero curarsi maggiormente sono anche quelli più disinteressati e disinformati su quello che il dispositivo può provocare a livello visivo non so se sia una questione di lo conosco talmente bene quindi non mi interessa niente o se invece magari era solo una questione di fame fatta questa premessa come diceva Fabio prima qualcosa è stato fatto c'è molto da fare ma la chiave di lettura è sempre quella che noi come aziende investiamo in ricerca per creare prodotti sempre più evoluti e tecnologici ma nello stesso tempo anche differenzianti quindi per attività specifiche e quindi poi l'ottico optometrista deve essere in grado in funzione della necessità e quindi della personalizzazione dell'offerta di scegliere il prodotto ideale per il cliente insomma grazie c'è qualche domanda dalla platea per i nostri relatori per i nostri amici dell'industria un signore qua alla mia destra c'è un microfono lì sulla sinistra grazie sta arrivando il microfono se gentilmente si alza in piedi il suo nome e cognome vado sì Danilo Mandelli volevo fare una riflessione sull'ultimo aspetto che il dottor Montani aveva fatto c'è la differenziazione tra la funzione protettiva alla luce blu che parrebbe non essere così determinante e invece la funzione di miglioramento della qualità visiva questa differenziazione è molto importante soprattutto per chi va a vendere gli occhiali o comunque lenti per determinare poi la classificazione del prodotto ai fini normativi legali e quant'altro perché in un caso siamo di fronte a un dispositivo di protezione che quindi va sotto una certa direttiva in un caso invece di miglioramento della qualità visiva siamo di fronte potenzialmente ad un dispositivo medicale quindi volevo sapere dai due rappresentanti dell'industria come trattano loro questo tipo di prodotto a livello poi commerciale in sostanza l'occhiale venduto o lenti vendute come protezione alla luce blu ora loro lo vendono come dispositivo di protezione o come dispositivo medicale una domanda che traccia un confine ritengo che i confini debbano darle di fondo le normative nel senso che non possono essere le aziende a dare questi confini le aziende si devono attenere alle normative in essere di sicuro sappiamo tornando alla tavola rotonda di prima quali sono le problematiche prodotte dalla radizione UV e l'organizzazione mondiale della sanità ha stabilito quelle che sono le nove patologie impotabili ad una elevata esposizione della radiazione UV mentre al contrario tutto quello che riguarda la luce blu è in fase di studio quindi non c'è oggi nessuno studio che ha dimostrato sugli esseri umani che la luce blu è dannosa per la retina quindi non può essere interpretato un trattamento che riflette parte della luce blu come occhiale protettivo ma un trattamento antiriflesso che ne riflette parte per noi aziende è un trattamento che viene proposto in termini di un'offerta decisamente maggiore ma alla fine di un trattamento standard nient'altro Silvano confermo nel senso che l'approccio della maggior parte delle aziende è comunque quello di fornire un trattamento che migliori la performance visiva non che sia preventivo anche perché come diceva Fabio nel momento in cui io parlo di prevenzione o protezione dovrei avere anche delle normative che mi indicano quale deve essere il livello perché proteggere cosa? Quanto? Cioè è sempre questo il discorso bisognerebbe avere un riferimento una volta assodato che sia necessario per poter poi categorizzare il livello di protezione Grazie io devo chiudere le domande e lascio solo spazio a un suggerimento del professor Martino riguardo a un tema che a volte non ci rendiamo conto ma però è fondamentale Io mi sarei aspettato da parte vostra una domanda quali altri sorgenti ci sono di luce blu nella vita quotidiana oltre ai display? Io vi ho parlato dei display perché diciamo forse è quello più evidente ma a casa vostra l'illuminazione adesso com'è? Come sta cambiando l'illuminazione dentro a casa vostra? Io ieri ho comprato avanti ieri ho comprato una lampada a led vi assicuro di luce molto bianca quando comprate una lampada andate a vedere se è luce fredda se è luce calda anche quella è una luce a led quindi in un futuro io mi aspetto che diciamo da parte di display non ci sia tutta questa emissione ma l'illuminazione a casa sta cambiando e ve ne siete accorti? Avete cambiato l'illuminazione all'interno di casa vostra giusto per non dimenticare altre sorgenti di luce blu che ci sono nella vita di tutti i giorni grazie questo è il compito dell'autometrista fare delle domande e dare delle risposte grazie a tutti è stato veramente un piacere grazie a tutti grazie a tutti